Il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato di un giovane è stato rinvenuto accanto ad un'automobile a Mariano in provincia di Napoli e stato identificato in un 27enne di Santa Anastasia. Del ragazzo non si avevano notizie da ieri sera, da quando non si era presentato al lavoro. Il ritrovamento nella mattinata di oggi intorno alle 11 grazie ad una segnalazione sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Al momento le cause del decesso non sono note e ritenuta verosimile l'ipotesi del suicidio ma non si esclude quella dell'omicidio. L'automobile era parcheggiata in via Duchessa di Mariano in zona Asi, strada di campagna alla periferia del comune del Napoletano. Accanto al veicolo è stata rinvenuta una tanica di benzina.